La Regione approva una norma che vieta la realizzazione di nuove RSA a meno di un chilometro da strutture simili. 1.300.000 euro dal Consiglio per il recupero del patrimonio culturale danneggiato dall'alluvione. La strada provinciale del Cipressino diventa strada regionale. RSA a distanza. Si ha maggioranza in aula la proposta di legge sulle disposizioni in materia di distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione per perseguire una programmazione più organica delle prestazioni ad integrazione sociosanitaria erogate sul territorio regionale dalle strutture residenziali e semiresidenziali si è ritenuto opportuno sottoporle alla verifica di compatibilità. Nelle more della deliberazione di giunta con cui verrà disciplinata questa verifica relativa al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale si è introdotta una norma di salvaguardia con finalità cautelare per evitare un'insistenza delle strutture residenziali sul territorio non rispondente ai criteri della programmazione regionale. Non sarà quindi consentito realizzare e autorizzare da parte del comune strutture residenziali che siano localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro misurata in base al percorso pedonale più breve dalle strutture medesime. Vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto per esempio che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri di urni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra. La razza di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana perché come sapete la norma toscana vieta RSA con più di due moduli di 40 persone e quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. È come quando uno trova il cavillo per non pagare le tasse, tutto legittimo però di fatto non paga le tasse. Questo è lo stesso sistema, si elude questa norma e allora la norma transitoria del chilometro serve per combattere questo fenomeno. È evidentemente falso, chi dice che questa norma transitoria voglia in qualche maniera combattere gli imprenditori, ostacolare gli imprenditori e vogliono legittimamente investire i privati e vogliono investire in Toscana. Tutt'altro, questa norma non limita minimamente la possibilità di un investitore di fare un RSA di 80 posti in qualsiasi parte della Toscana. Dubito che chi vuole fare un nuovo investimento lo voglia fare a meno di un chilometro, a due o trecento metri da un RSA che c'è già. Chi lo vuole fare è perché vuole semplicemente eludere una norma che in Toscana però è vigente. Questa è la razza della norma. Diego Petrucci ha espresso voto contrario ritenendo che le strutture che svolgono questa attività operano in un mercato chiuso, senza concorrenza. Noi pensiamo che il mercato dell'RSA, utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato. Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come è detto che grande sia cattivo. Noi pensiamo che buono sia buono e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, nel momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne, dove ci sono gli strumenti della modernità, che siano palestre degnitose, piscine, ma anche connessioni internet, anche sale per collegarsi dal remoto con i parenti che stanno allontani da casa, quando non possono venire a trovare la persona anziana, che ci siano corsi di computer, che ci siano spazi dove poter guardare documentari, film e tutto il resto, quello che la modernità offre. Le strutture attuali, molto spesso, non sempre per fortuna, sono strutture non adeguate, strutture al limite della faticenza, dove la palestra magari viene fatta sul ballatoio delle scale e questo non è un buon servizio per i nostri anziani, per la nostra regione. Noi pensiamo che un buon servizio lo si ottenga aprendo anche la concorrenza, viva la concorrenza e in questo modo stimolando gli attuali gestori che fanno già un gran lavoro comunque adeguarsi a stare al passo con i tempi. Per Stefano Scaramelli si tratta di un impianto di legge convincente. Un impianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato, bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana, questa norma consente agli interventi una maggiore qualità ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi, questa è la finalità e anche la sostenibilità. Il sistema dell'RSA a Toscana ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento ma anche normativa che mettono nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture e fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Il Rane Galletti ha parlato di lassismo della regione che ha permesso il proliferare sul territorio dell'RSA. Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della regione precedentemente, un lassismo che è stato anche nei controlli tra l'altro del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando sul territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare luoghi grandi o piccoli una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Dobbiamo sicuramente andare a guardare a monte di questo problema, quindi delle RSA e del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA e anche sulla qualità ci sono stati purtroppo dei casi poco edificanti su cui la regione prima di andare a fare una modifica su questi dettagli avrebbe dovuto vigilare molto di più e sono successi anche molto recentemente. Giovanni Galli ha spiegato i motivi dell'assenzione della Lega. Intanto non mi sembra che sia corretto che l'assegnazione di una RSA pubblica vada messa al bando con un'offerta a ribasso, un'offerta a ribasso vuol dire che o non si danno servizi o non si dà la struttura o non si dà il mangiare di quello che è necessita, per cui credo che già questo è un aspetto. Poi c'era appunto il discorso delle distanze e va bene, ma ci sono le quote sanitarie che le RSA stavano richiedendo, c'è stato l'aumento delle RSA in concomitanza con l'aumento dell'IRPEF. Cioè ci sono delle cose che sinceramente andavano approfondite e andavano studiate maggiormente e con la condivisione di tutti perché ho capito e ho visto che dal Presidente Sostegni a tutta l'Aula c'è la volontà di dare un indirizzo e di avere un'identità soprattutto per l'RSA migliore per i nostri anziani. In aiuto della cultura Unanimità nell'Aula di Palazzo del Pegaso sulla legge che destina una parte dell'avanzo di bilancio del Consiglio regionale individuando un settore di intervento particolare, ovvero la tutela e il ripristino del patrimonio culturale storico danneggiato dagli eventi agliuvionali del 2023 che hanno colpito la zona dell'Alto Mugello e i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoi e Prato. Così ha esordito la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi, che nel corso dell'illustrazione dell'atto ha ricordato l'allargamento dei soggetti beneficiari attraverso un emendamento ai territori delle province di Massa Carrara e Lucca. La legge proposta dall'Ufficio di Presidenza eroga contributi nel limite massimo complessivo di 1.300.000 euro ai comuni che presentino progetti finalizzati a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale storico di appartenenza al fine di garantire un accesso di qualità e una miglior protezione dei beni ad esseri conducibili. L'attenzione per la promozione dello sviluppo della cultura importante ha sottolineato Giacchi perché il patrimonio culturale rappresenta l'identità di una comunità. È una proposta che ho voluto con forza. Subito dopo l'alluvione, con l'avanzo di amministrazione, abbiamo deciso di sostenere iniziative volte a recuperare patrimonio artistico, culturale della nostra regione. 1.300.000 euro per dare risposte a chi ha avuto danni dal punto di vista artistico-culturale. Noi viviamo un tempo molto complesso, tante richieste da parte delle cittadine e cittadini a cui la Giunta sta provando a dare risposte nella maniera migliore possibile. Noi invece abbiamo voluto focalizzare l'avanzo per cercare di aiutare per esempio a chi ha avuto una biblioteca danneggiata. Perdere i libri vuol dire perdere un pezzo della nostra memoria, della nostra storia. Noi abbiamo deciso di mettere queste risorse e sono contento che sia stata approvata all'unanimità dell'Aula. Devo dire che il Consiglio regionale ha scelto di destinare una parte del suo avanzo di bilancio, 1.300.000 euro, per sollevare i comuni che sono stati colpiti dalle alluvioni del 2023. Per quanto riguarda il patrimonio culturale, noi abbiamo approvato provvedimenti e visto provvedimenti destinati agli aiuti più in generale, abbiamo scelto di concentrarci sul patrimonio culturale perché la cultura non è un lusso, non è un accessorio che ci si può concedere o non concedere a seconda dei momenti, ma per le istituzioni è il dovere di provvedere i cittadini con fattori di ispirazione, con l'aria che si respira poi, perché questo è la cultura. E non ci dimentichiamo che nei comuni soprattutto più piccoli, i luoghi della cultura, le biblioteche, i teatri, sono spesso anche luoghi dell'identità della comunità e quindi è un modo per prendersi cura di un bene prezioso per le nostre comunità così duramente colpite durante le alluvioni dello scorso autunno. Nello specifico i contributi mirano a sostenere interventi progettuali per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio archivistico comunale di quello librario presente nelle biblioteche comunali, per la riqualificazione del patrimonio immobiliare storico, per l'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica in considerazione dei gravi danni subiti a seguito degli eventi meteo. L'atto inoltre tende a sostenere interventi finalizzati alla riqualificazione di spazi urbani, quali centri di aggregazione giovanile, come elementi essenziali della vita sociale. Le modalità di concessione dei contributi infine verranno stabilite con una successiva deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che individuerà gli indirizzi e le modalità di accesso degli stessi ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico. I comuni potranno presentare una sola domanda di contributo in relazione a un progetto rientrante in uno degli ambiti individuati, una legge condivisa anche dall'opposizione. Abbiamo votato favorevole per i soldi dati, per l'alluvione, perché riguardano le biblioteche, i teatri, tutte quelle zone dove le persone si ritrovano e quindi sono importanti per la loro memoria, per la loro identità e per la loro storia. Cambio di classificazione. È stato approvato dall'Aula il provvedimento che contiene le modifiche alla legge del Consiglio regionale per l'individuazione della lette stradale regionale, con le risorse da assegnare alle province e con la classificazione a strada regionale della strada provinciale numero 64 del Cipressino. Il provvedimento prevede una nuova classificazione della strada del Cipressino, che diventa strada regionale in conformità alle norme vigenti. Voglio esprimere soddisfazione per questo cambio di destinazione, per questa classificazione che si modifica nella strada del Cipressino, che da strada provinciale diventa strada regionale. Questo significa che non è più a carico degli enti locali, ma diventa a carico della regione. La regione ovviamente la prende in carico perché la considera una strada strategica. Ricordiamo che lì nel Solamiata vi è un bacino geotermico piuttosto importante, ma direi che c'è anche agricoltura e al di là di tutte quelle che sono le classificazioni e il piano finanziario importante che ci è stato messo, sono 500 mila euro per il 2024 e 300 mila sia nel 2025 che nel 2026. Credo che sia importante anche perché l'Amiata sappiamo che è un'area interna, rientra infatti anche nelle zone delle strategie delle aree interne, importante per quella popolazione perché diventa un'infrastruttura che collega, sono 30 km, ma veramente strategici, che sono attesi dalla popolazione amiatina ormai direi da numerosi anni. Strategica perché li collega alla strada statale, la 223, che è la strada appunto Grosseto-Siena. Un'area interna che in questo modo può permettersi di svilupparsi ulteriormente, sede appunto agricola, anche di prodotti particolari, di prodotti caratteristici e quindi non possiamo che esprimere appunto una soddisfazione. Il consigliere regionale Alessandro Capecchi si è dichiarato d'accordo sul principio del trasferimento alla regione, ha chiesto una valutazione complessiva sullo stato dei nostri collegamenti stradali. Capecchi invece ha ritenuto sbagliato l'atteggiamento del presidente Gianni che tratta direttamente con i territori e scavalca le ruole e le competenze del consiglio regionale. È una novità positiva nel merito perché sicuramente si aiutano quei territori e si dà una piccola risposta in termini di infrastrutture alla Toscana del Sud. Dal punto di vista del metodo come al solito è una già nata, nel senso che è una promessa fatta direttamente dal presidente agli amministratori locali, tant'è vero che ha fatto una conferenza stampa prima ancora che il consiglio regionale si esprimesse e tant'è vero che la maggioranza ha fatto un ordine del giorno per chiedere al presidente di fare quello che la regione dovrebbe fare, cioè la programmazione per garantire a tutte le province, non all'ultimo amministratore che riesce a parlare col presidente, ma a tutte le province un trattamento diciamo paritario perché la situazione delle strade provinciali è molto complessa in tutta la regione. È un modo, dice lui, di aiutare gli enti locali ma chiaramente è in dispregio ai più elementari principi di trasparenza ma soprattutto di imparzialità sul territorio. Ovvio che di fronte a esempi di questo genere tutti gli amministratori sono spinti non a stare ad aspettare gli atti di programmazione della regione ma a rincorrere il presidente per cercare di carpire ovviamente qualche promessa.